A Natale facciamo tanti regali. Ai familiari, a chi amiamo, agli amici. E ai nemici? Mini presenta We Wash You a Mini Christmas. Buongiorno. Prego, lavaggio completo? Grazie. A Natale siamo tutti più buoni, anche noi di Mini. Per questo abbiamo deciso di regalare un lavaggio a tutti. Quanto è? Niente. Oggi il lavaggio lo offre Mini. Anche a chi non ha una Mini. Posso chiamare i miei amici? Certamente, siamo qua. Grazie. Mini Christmas. Buongiorno. Buongiorno.